carissimi chiara e antonio carissimi amici parenti siamo nella casa del signore il dio dell'amore il dio che ha pensato questi ragazzi li ha messi insieme gli ha scritto nel cuore i sentimenti più belli e che oggi consacra la loro volontà di scambiarsi reciprocamente l'amore per tutta la vita certamente voi avete cominciato a scoprirvi innamorati come dice chiara 11 anni come dice antonio da due anni e mezzo state costruendo la vostra famiglia gesù non è un invitato tra i tanti a questo matrimonio è colui che trasforma qualitativamente questo vostro amore fatto di attrazione indone ciao 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 Oggi è solo l'inizio dei giorni più belli della vostra vita.